salve ragazzuoli buonasera a tutti buonasera ragazzi miei come state io mi sto riprendendo vi dico la verità mi sto riprendendo ho avuto un calo brusco e il mio medico mi aveva dato due strade calo brusco nel senso che o non dormivo più o dormivo troppo e non avevo via di mezzo e aveva in mente una via di mezzo o farmaci di notte per farmi dormire di giorno per mister sveglio strong chiamiamoli così oppure dei farmaci naturali che sappiamo tutti che il naturale alla fine per quel che sappiamo farmaci almeno sono abbastanza blandi e però non fanno non hanno ripercussioni sul fisico ecco diciamo così e io però non me la sono sentita di prendere altra roba ragazzi perché te dai che te dai che te dai io sono sempre 60 mg di prozac al giorno più il metano e tutto quanto quindi quando lui mi ha dato queste due soluzioni le traspettiamo un attimo vediamo un pochino per fortuna mi sono un attimo rimesso in sesto infatti adesso voglio ricominciare a far video mi sono ritirato su poi ho comprato un sacco di giochi per dei pc xbox se vogliano giocare insieme ho comprato anche fortuna salvo il mondo ho comprato il gioco dei nani deep deep rock galactic del genere un sacco un sacco di giochi code poi se non avete xbox one o pc che io quelli due possiamo giocare insieme anche se avete la ps4 da alcuni giochi quindi serviva vi fate sentire io vi do il mio id e ci si trova mi scrivete qui o su instagram dove volete voi e ci troviamo poi se tra di voi ragazzi c'è qualcuno che vi può dare una mano per le grafiche di twitch e ben accetto questo aiuto ragazzi adesso è qualche mese che dopo il lockdown che il canale twitch stava bar collando un po ora per fortuna si sta ritirando su almeno per quel che riguarda gli spettatori perché comunque per le entrate ragazzi ancora un macello è ancora un macello diciamo che ero abbastanza contento della mia vita che ho trovato comunque un lavoro lavoro tra virgoletto che mi piaceva che riuscivo a guadagnare poi dopo il lockdown le cose si devono un carici rosso quindi devo ancora guadagnare da twitch dalmeno tre mesi due mesi o tre mesi di ancora guadagnare ragazzi quindi è abbastanza così la situazione sto ricercando lavoro perché lì dove lavoravo prima del lockdown sono ancora corto di personale quindi non prendono nessuno tanti storici sono ancora a casa figuriamoci l'ultimo arrivato e niente la situazione un po così io sto aspettando un attimo che si risollevi perché sennò è un macello fatto bene a mettermi via qualcosina durante quei periodi buoni sono messo via qualcosina per farlo qualche mese ce l'ho però però ragazzi devo ritornare abbastanza attivo su su twitch per fortuna di persone stanno tornando e tutto quanto insomma non sento che sta andando male anzi ho visto che comunque i numeri delle view stanno tornando e quelli delle entrate vediamo se si sblocca anche loro vediamo un pochino comunque era stato per quello anche che facevo pochi video qua sul mio canale perché proprio stavo abbastanza male con quel discorso lì che o dormivo poco o dormivo o dormivo troppo non avevo una via di mezzo non avevo più orari ci soffrivo parecchio perché quando mi svegliavo la sera che non potevo già più far niente e loro lì mi cascava di cocones depressione cose mi sono un po isolato da tutto da tutti periodo un po un po così per il un poco di fortuna che comunque di gente che mi vuol bene ne ho gli amici tutto quanto ma visto in un periodo anche un po così hanno insistito e quindi bene ormai il compagnissimo stato lo stesso per fortuna e isolarsi sti momenti quando mai 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 la scelta giusta mai mai comunque se qualcuno se ne intende già di twitch a voglia di dar una mano quel che è un aiuto molto 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 gradito anche per i banner da fare è un aiuto molto 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 gradito ragazzi e poi per i videogiochi volete giocare io adesso cercando di trattare di notte dei temi crime misteri non troppo pesanti perché sia io che magari qualcuno che abita in casa da solo quando mettiamo su certi documentari certe cose viene un po di strizza e di notte nel caso quindi cerco di mantenere un misteri soft un un horror molto soft che ora non è quindi se volete passare dall'altra piattaforma vedete il nome prima io sono sempre lì dalle 23 30 mezzanotte in poi trovate sempre questi giorni qua ho fatto una scaletta sci ripartire anche quei videogiochi questi giorni ne ho fatti proprio poco di niente ragazzi perché avevo detto ero a terra a terra ragazzi ero ero a terra quindi incrociamo le dita incrociamo le dita e ripartiamo ciao ragazzi buona serata a tutti un abbraccio da grande 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 grande